Endel Oves anticipazioni. Al 21 al 22 settembre. Kemal e Nihan decidono di incontrarsi di nascosto in un asilo nido, dove la piccola Denise può giocare. Li, soidere, riesce a persuadere Nihan a contattare la fotografa che ha scattato le immagini nella stanza di Ozan il giorno della sua morte. Poi, estrae dalla giacca un foglio con il suo numero. Tuttavia, Kemal non riesce a distogliere lo sguardo da Denise. Una delle babysitter nota che la bambina è un po' inquieta e pensando che suo padre dovrebbe prenderla in braccio per calmarla. Così, prende la bambina e la porge a Kemal, il quale si ritrova con la figlia tra le braccia e inizia a giocare con la piccola. Nel frattempo, Emir si reca a fare un massaggio, ma Zeynep prende il posto della massaggiatrice. Kotz Quoglu rimane sorpreso dalla sua presenza e lei gli spiega di aver utilizzato alcuni trucchi che lui stesso le aveva insegnato. Quando Emir chiede quanto gli costerà, la ragazza chiarisce che non sarà lei a pagare, ma lui quando se ne andrà. Zeynep si scusa con l'amante, spiegando che avrebbe potuto rendersi conto di essere caduta nella trappola orchestrata dal fratello. Emir le chiede di continuare con il massaggio, ma comprende che Kemal ha pianificato tutto questo per separarli. Sottolinea, infatti, che a differenza di Zeynep, lui ha la capacità di cogliere il vero intento del suo rivale. In azienda, Galip riceve un fax da una delle assistenti, nel quale Ayan lo aggiorna sul fatto che ha riacquistato una parte dei suoi prestiti, e che il termine di scadenza si avvicina. Più tardi, Kemal arriva da Tariq e Hussein, nella barberia recentemente ristrutturata dopo che Emir ha dato fuoco al negozio di famiglia. Accorgendosi che il padre è molto stanco, chiede a Tariq di accompagnarlo a casa, decidendo di rimanere lì per completare il lavoro. Quando tira fuori gli strumenti per dipingere, viene interrotto dalla visita di Ayan, che lo ringrazia per il supporto offerto riguardo alla questione di Galip, e si offre di aiutarlo a dipingere. Contemporaneamente alla villa Nihan, incontra la fotografa, la quale le promette di fornirle le foto di Hozan dal suo archivio personale. La sera, Nihan è nella stanza con sua madre, e la bambina che dormono. Emir ne approfitta per entrare nella stanza di Nihan, e trova il diario di cui lei aveva parlato giorni prima. Tuttavia, si tratta di un falso, creato da Nihan per mostrare al marito, questo diario assomiglia molto all'originale, ma contiene solo immagini di Deniz, e commenti in cui Kemal non viene mai menzionato. Emir lo osserva con sorpresa, e poi ricorda che ha sentito sua moglie dire a sua madre che intende rimanere con lui, e vuole davvero dare un'autentica possibilità al loro matrimonio. Quella sera, dopo aver lasciato l'amico, Ayan si dirige verso la casa di Leila. La invita a salire sulla sua auto, e poco dopo, la conduce in un luogo con vista sul bosforo. Li inizia a raccontarle della sua infanzia. Insieme trascorrono una serata piacevole, caratterizzata da una profonda sintonia tra di loro. Senza dubbio questo è l'inizio di una bella storia d'amore. Il giorno dopo, mentre Emir si dirige al lavoro, Nihan informa il marito che sta andando a correre. Tuttavia, mentre si allontana dalla villa, un'auto guidata da un dipendente di Kemal l'aspetta. Nihan sale in macchina per farsi accompagnare da lui. Nel frattempo, brutte notizie iniziano a giungere per la famiglia Kotskoglu. Galip è il primo a ricevere una chiamata, che annuncia il rapimento di Mujgan dalla casa in cui si trovava. Poco dopo, Kemal e Nihan incontrano con la fotografa che consegna loro una busta contenente delle foto. Le esamina brevemente. Poi, decide di andare con lei da un ex ufficiale della scientifica per ottenere la sua valutazione. Contemporaneamente, anche Emir viene a sapere della scomparsa di sua madre, rapita dagli uomini di Zehir, che l'hanno trasferita in ambulanza in una direzione conosciuta da lui e soidere. Dopo la piacevole notte trascorsa con Ayan, Leila arriva nel garage dell'uomo e questa volta è lei a prendere l'iniziativa. Lo guarda e gli dice che è lì per guardare un film con lui. Ayan è un po' sorpreso, ma Leila ha già predisposto un proiettore nel suo garage. I due si sistemano comodamente davanti al monitor e iniziano a vedere uno dei film preferiti di Ayan. Terminato il film, Leila si prepara a partire, ma non prima di ricevere le prime dichiarazioni d'amore da parte di Ayan, che le confida che, dopo molto tempo, il suo cuore è tornato a battere. Alla villa Kotskoglu, l'ansia si diffonde e Vildan contatta Emir per chiedergli dove si trovi. Racconta che davanti alla villa si è radunato un gruppo di giornalisti che ha ricevuto notizie su Mushgan. Emir riattacca e chiama Asu per accusarla, ma presto realizza che sua sorella non è coinvolta. Dall'altra parte della città, il tecnico della polizia esamina le foto e non ci mette molto a rendersi conto che Ozan non si era tolto la vista a Kemal come è giunto a questa conclusione. Torna da Nihan e le comunica che i loro sospetti sono stati confermati e che Ozan non si è tolto la vita, Nihan scoppia in lacrime, mentre lui la sostiene e l'abbraccia. Davanti alla villa Kotskoglu c'è un grande fermento. Emir arriva furioso e cerca di allontanare i giornalisti, annunciando che sua madre è morta. Tuttavia, all'improvviso, un'ambulanza si ferma davanti alla casa, mentre i paramedici portano fuori Mushgan su una barella. Emir è sconvolto, mentre il personale medico gli chiede di firmare un documento per la consegna della paziente, ma lui nota che al documento è attaccato un piccolo biglietto inviato da Kemal, che lo esorta a prendersi cura della sua famiglia. Contemporaneamente, Nihan e Kemal si trovano sulla spiaggia e discutono su come procedere per scoprire chi ha assassinato Ozan. La loro conversazione viene interrotta dalla telefonata di Vildan, che informa la figlia su ciò che sta accadendo nella villa. Dopo aver riattaccato, Nihan inizia a raccontare a Kemal che ormai tutti sanno che Mushgan è viva, anche se Soidere non sembra sorpreso. Nel frattempo, alla villa, quando Galip arriva, scoppia subito una discussione tra padre e figlio, e Emir furioso chiede a Galip dove si trovi il medico personale di sua madre. Ma quest'ultimo non riesce a fornirgli una risposta chiara. Poco dopo, arrivano anche gli avvocati di famiglia, che iniziano a concepire una strategia da adottare per affrontare le difficoltà che potrebbero presentarsi. Poco dopo, Asu incontra Kemal presso la sede dell'azienda, e gli fa notare che non si è comportato in modo adeguato nei confronti di una donna completamente vulnerabile. Kemal si giustifica dicendo che ha preso la decisione migliore, e grazie al suo gesto, ha restituito la libertà alla madre di Emir, che era stata tenuta lontana dalla società per un lungo periodo. Quando Zehir arriva, Kemal parte con lui. Emir esce di casa infuriato, e si dirige direttamente verso l'azienda di Kemal. Una volta davanti all'edificio, Kemal scende dall'auto, e Emir inizia a minacciarlo. Tuttavia, Kemal cambia l'argomento della conversazione in una direzione inaspettata. Rivela al rivale di essere già stato ingannato diverse volte da suo padre, e sottolinea che sarebbe opportuno indagare sul motivo per cui Galip ha tenuto Mujgan isolata dal mondo per così tanti anni, con un unico medico a prendersi cura di lei. Emir, colpito da queste rivelazioni, interrompe la disputa con Kemal, per concentrarsi sulla ricerca del medico di sua madre. Galip, invece, viene condotto alla stazione di polizia, costretto a confessare di aver registrato la morte della moglie e di averla tenuta nascosta per anni. Sebbene Galip riconosca le proprie responsabilità, spiega che le sue azioni erano motivate dal desiderio di proteggere Emir e di evitare il trauma, oltre a un fallimento finanziario per la sua azienda. Più tardi, Ayan contatta Emir e gli comunica che il medico di sua madre è nelle sue mani. Kuskoglu si dirige immediatamente verso il suo magazzino per scoprire cosa nasconde suo padre. Poco dopo Kuskoglu si trova faccia a faccia con il medico di sua madre, e lo costringe a rivelare la verità, e il medico ammette che, nonostante Mujgan avesse mostrato segni di miglioramento, sette anni prima Galip aveva deciso di continuare a somministrarle farmaci per mantenerla in un coma profondo, quindi la donna non si è svegliata grazie all'intervento di suo padre. Quella sera, Emir è emerso nei suoi pensieri ed è profondamente colpito da ciò che ha scoperto. Ma Nian vuole scoprire se il marito è coinvolto nell'omicidio di Ozan. Utilizzando un dispositivo che normalmente registra ciò che accade nella stanza di sua figlia, contatta Kemal e gli comunica di agire subito. Poi Nian si dirige verso la stanza di Emir, con uno dei dispositivi, e lo nasconde nel materasso del letto, senza farsi notare dal marito. Gli chiede se ha bisogno di aiuto, ma Emir le chiede di lasciarlo solo quella sera. Nian accetta volentieri, e gli comunica che passerà la serata da Leila con Deniz. Quando Nian lascia la stanza del marito, Kemal chiama il commissario Hakan e gli comunica di aver identificato il trafficante con cui Emir aveva concordato di trasportare Ozan su una barca dopo il rapimento. Come previsto da Kemal e Nian, il commissario contatta Emir per rivelargli ciò che ha appreso da soidere, ignaro del fatto che le sue parole vengono registrate. A casa di Leila, quest'ultima, e Ayan parlano del loro passato. Il corteggiatore di Leila ammette di aver fatto errori, ma sostiene di non aver mai fatto del male a chi non lo meritava. La loro conversazione viene interrotta dall'arrivo inaspettato di Nian e Deniz. Leila finge sorpresa, e spiega che Ayan è lì per una scommessa persa. In quel momento arriva anche Kemal. Le due coppie si siedono al tavolo mentre Ayan racconta loro che ha conosciuto Leila durante la visita che lei ha fatto a Kemal in prigione. Nian si ritira per andare a dormire nella stanza degli ospiti, mentre Ayan parte per casa, non prima di scambiare qualche sorriso innamorato con Leila. Kemal rimane solo. Si siede per alcune ore a guardare il mare dalla finestra, poi decide di entrare nella stanza dove si trovano Nian e Deniz, entrambe dormono profondamente. Soidere ammira entrambe con soddisfazione, poi si sdraia in un angolo del letto e passa la notte con loro. Durante la notte, Nian si sveglia per un attimo e vede Kemal che dorme accanto a lei e a loro figlia. La mattina dopo, Kemal lascia la casa di Leila e si reca da Assu, rivelandole di aver preso una decisione che la ferirà, ma che considera la migliore. Ammette di non riuscire mai a superare l'amore che prova per Nian, pur sapendo che non potranno mai stare insieme. Kemal si toglie l'anello nuziale e le spiega che è dispiaciuto, ma non può sposarla. Assu inizia a piangere e corre dietro a Kemal, avvertendolo che Emir lo ucciderà se si avvicina a sua moglie. Sono morto comunque senza di lei, dice Kemal, prima di andarsene.